Benvenuti amici in un nuovo episodio di questo fantastico gioco. Ora mi sto un po' riposando per andare a avere il buff del riposato. Vedete, semplicemente dovete posarvi vicino una fonte di calore e intanto ne approfitto anche per cucinarmi qualche cosa. Ho raccolto dei funghi in giro e quindi adesso me ne vado a cuocere e poi mangiare. Dunque, ho costruito questa bacchetta magica, come potete vedere, perché vorrei farmi un mago, ma non so bene ancora come fare. Dunque, proviamola. È abbastanza forte. Oh, wow! L'ho ucciso subito questo, cos'era? Un lupo? Benissimo. Allora, andiamo a saccheggiarlo e cosa ci ha dato? Le ossa. Quindi, i lupi ci danno le ossa, almeno questo mi ha dato le ossa. Ma ora, torniamo a noi. Dobbiamo continuare la nostra missione. Dobbiamo raggiungere un punto sulla mappa e trovare il sopravvissuto addormentato. Qui dice, viaggia attraverso il manto. Ok, proseguiamo e andiamo verso il punto che ce lo indica tranquillamente in mappa. Oh, ma che cos'è questa? Ah, una pianta di pannocchia. C'è anche la pannocchia in questo gioco. Ottimo. Proseguiamo la nostra strada senza indugio. Questo qua che cos'è? Ah, sì, è il falò del ritorno. Ossia, ogni volta che andiamo a morire, rispondiamo qua. Ok, perfetto. Allora, qui mi sembra di aver visto Gran Fortezza, che c'è un po' di villaggi distrutti. Ah, livello 2. Ottimo. Forse anche sull'orando mi ha dato un po' di esperienza. Un punto, abilità. Bene. Poi dopo vedremo il tutto, come funziona. Ancora non conosco bene questo gioco. Anzi, direi, non lo conosco per niente. Qui c'è un falò, quindi anche qui possiamo andare a riposare e andare a prendere di nuovo il buff del riposato. Raccogliamo queste cose. Qui cosa c'è? Un libro. Andiamo a leggerlo. E da quello che ho capito, ogni volta che andiamo a leggere un libro, quindi li troviamo un po' sparsi per tutta la mappa, andiamo a fare esperienza in determinate cose. Poi magari vedremo tutto al meglio. Uh, un grimandello nel dettaglio. Scusate, ma ho preso un grimandello. Quando si parla di grimandelli, significa che ci sono delle casse chiuse, che però probabilmente hanno dei bei tesori, e dobbiamo andarli a scassinare appunto con il grimandello. Quindi è ottimo che già ne ho trovato uno. Allora, addentriamoci e cerchiamo di uccidere questo tizio qua. Oh, attenzione, è molto forte. Ok, fatto. Vediamo cosa ci dà. Ah, le spore del manto. Va bene. Raccogliamo. E qui c'è una pergamena. Penso che vada a letta come funziona per quanto riguarda i libri. Dunque, sto vedendo che qui nella zona losca, chiamiamola così, un po' più buia tetra, di colore blu, vedete che c'è questa barra con un tempo che va in scadenza, che si chiama avvolto, che non ho capito bene che cosa sia. e credo che quanto tempo io sono in quella zona lì. Ah, che cos'è questo? Un alveare. Andiamo a raccogliere. Andiamo a raccoglierlo. E cosa che ci dà? Miele. Ah, ottimo. Miele e la cera. Sono due ingredienti che a qualcosa serviranno. Al momento non so ancora dirvi a che cosa, però, come sempre, vado a raccogliere un po' tutto per poi riuscire a capire cosa servirà. Dunque, allora, addentriamoci, perché qui la strada diventa sempre più complicata. Dobbiamo andare verso nord per raggiungere il punto e trovare il tipo. Dunque, se non ho capito male, in realtà, i tipi che dobbiamo andare a trovare sono cinque e questi ci permetteranno, sono degli NPC in pratica, di effettuare alcune persone molto importanti. Oh, abbiamo trovato il pozzo. Il pozzo ci dà l'acqua. Ottima cosa. Ed è carino questo modo in cui ce la dà. Procediamo. Io ho un po' paura qui ad entrarmi, perché non so bene cosa mi aspetta. Il rampino, purtroppo, ancora non l'ho trovato. Mi chiedeva per andare sul ponte di utilizzare il rampino, però non l'ho trovato. Chissà dove sarà. Comunque, ispezioniamo un po' il tutto. Sono tornata qui nella zona azzurra, però ho ucciso un po' di mob, però mi sembra che di aver trovato niente di che. Quindi proseguiamo alla ricerca di questo posto che è ancora un po' difficoltoso riuscire a trovarlo. Era un po' incerto se andare a fare una bacchetta oppure un arco, però l'arco richiede di andare a craftare anche le frecce, quindi ho optato per la bacchetta. La mia idea sarebbe quella di costruirmi un... Ah, yaoh, ma chi è? Oh, ma un insettone. Ma dove è uscito? Dicevo, di costruirmi una maga potente, almeno speriamo. Qua c'è qualcos'altro. Vedo che... Ok, tiriamogli queste palline. Adesso non so se poi potrò avere altri tipi di magie e lo scopriremo andando avanti con questo gioco. Allora, mi ha dato il tessuto. Ah, ecco, chi dà il tessuto sono questi mob qua, quindi li dobbiamo anche un po' cercare e ucciderli e raccogliere. Che sono questi? Liquido del manto. Chissà che cos'è. Raccogliamone un po'. Oh, siamo quasi arrivati. Dovrebbe essere più o meno in questa zona. Ma chi è quello? Ah, il solito lupaccio. No, vabbè, ma questo lupo che cos'è? Viola? Oh, mamma mia. Aia, mamma mia. È fortissimo. E che cavolo. Vabbè, rigeneriamo. Dunque, eccoci qua che abbiamo fatto di nuovo tutta la strada ma questa volta non ci caschiamo più perché giù c'era quel villaggio con i mob di livello 3 e noi siamo ancora troppo bassi per affrontarli. Quindi dovrebbe essere teoricamente in questa zona. Ma qui che cos'è che c'è? Sacrario della Fiamma. Nuovo logo tracciato. Ok. Perfetto. Ma dovrebbe essere più o meno in questa zona. Non riesco a trovarlo perché è tre ore che sto andando su e giù. Antica cripta del fabbro. Ah, ma dovrebbe essere qui. Ma dov'è che sta? Non riesco a salire. Allora, devo dire che qua non ci si può né arrampicare né salire più di tanto. Cioè saltare più di tanto. Quindi diventa un po' difficoltoso. Ma che cos'è lì? Andiamo a vedere. Ma qui mi sembra che sia qualcosa da andare a raccattare. Blocco di selce e grezza. Ah, la selce abbiamo trovato. Ah, vedete com'è fatta? Così come fosse un muro. Quindi ricordiamocelo perché poi quando ci servirà adesso non mi voglio riempire perché voglio continuare con la missione. Allora, purtroppo prima sono caduta qua. Ma dovrebbe essere qui più o meno il tipo che non si capisce bene. Forse qui dentro, qui sotto. Allora, andiamo a prendere dalla tomba tutta la roba che ho perso. Ho dovuto rifare tutta la strada quindi è una roba veramente lunga. Ero caduta qui nell'angolo e ci sono dei forti danni da caduta purtroppo e non lo sapevo e quindi sono morta. State attenti. Ecco, qui ero caduta quindi bisogna stare attenti. E qui sotto dovrebbe esserci qualcosa almeno. Così dice in mappa. Allora, attenzione che ancora cado di nuovo. Ecco, metà vita andata. Ah, qua ci sono dei nemici. Attacchiamolo. Attenzione. Dovrebbe essere qui dentro perché si chiama Antica Cripta del Fabbro. Oh, ma chi è questo dietro? L'avevo aggrato, non me ne ero accorta. Quindi niente. Ah, aiuto, aiuto ma saranno forti questi? Non ho visto a che livello sono. Comunque, scappiamo un attimo. Voglio andare a vedere un attimo laggiù perché ho visto quando c'è la luce rossa c'è sempre un libro da andare a leggere. Vediamo se riusciamo a beccarlo velocemente prima che quelli ci becchino e ci fanno fuori magari. Allora, fatto. Dunque, nuova pagina informazione degli antichi e la fiamma. Dunque, allora, scappiamo e organizziamoci. Dovrebbe essere qui, ragazzi, in questo piccolo villaggio. Quindi, adesso mi do un attimo una curata e vediamo se riusciamo ad entrare senza fare troppi danni. Ok, ho fatto fuori un po' tutti con questa bellissima bacchetta potente. Bisogna prenderli da molto lontano perché sennò ci fanno la pelle e teoricamente qua il tipo non c'è più quanto pare a meno che non è dentro non so dove è andata a finire e quindi andiamo a vedere qui si chiama antica cripta del fabbro e noi quello che stiamo cercando è proprio il fabbro quindi qui cosa che c'è ha la solita pergamena quindi ok 10 XP ah, eccolo dove era andata a finire era rimasto dietro perché ci aveva inseguito l'aveva un po' fatto fuori però poi era scappata ecco perfetto ce l'abbiamo fatta e anche questo è andato e in questa cripta vedete è simile a quella che ci ha portato qui noi eravamo rimasti qui dentro in queste cripte noi e qualche altro sopravvissuto e noi dobbiamo trovare gli altri sopravvissuti eccolo qua il tipo ok a questo punto possiamo tornare tranquillamente nella nostra base ossia a casa perché adesso poi andremo a evocare il tizio per vedere cosa fa una volta trovato il fabbro ci dobbiamo andare a creare il bastone per l'evocazione ed è molto semplice servono soltanto un rametto quindi lo andiamo a fare e vediamo poi di evocare il tipo ah eccolo l'abbiamo evocato si chiama Oswald Anders ossia il fabbro quindi lo possiamo andare a posizionare dove vogliamo qui all'interno della nostra base boh scegliamo un punto tanto è vuota praticamente mettiamolo qui vediamo un po' eccolo evocato dunque allora vediamo cosa serve il nostro amico fabbro anzi no lo vedremo in un altro episodio vi ringrazio per la visione come sempre vi chiedo un bel mi piace e ci vediamo per un prossimo episodio e ci vediamo